Sono ancora ricoverati in gravi condizioni due dei tre occupanti dell'automobile che venerdì è uscita di strada mentre percorreva la via del Boscon fra Cesuna e Canove. Il veicolo è andato a sbattere contro un albero per poi schiantarsi nel fossato che costeggia la carreggiata. Il conducente è stato trasportato nell'ospedale di Vicenza, una delle passeggere a Verona. Una terza persona in condizioni meno gravi è stata portata nell'ospedale dell'altopiano di Sette Comuni.